Salve a tutti ragazzi, sono Master Wallace, carico, carico, carico. Allora, chi c'ha la medaglia degli eroi come sempre? L'argomento di oggi è questo, è anche un po' filosofico se vogliamo, anzi lo è, ma credo che sia importante nel culturismo avere anche la filosofia. Allora, the last workout, il tuo ultimo allenamento, quando avverrà e che cosa significa? Vedete, noi siamo portati come esseri umani a vivere nel presente e questo è giusto. Un famoso detto diceva, ricordare il passato, vivere il presente e progettare il futuro, ed è quello che bisogna fare. Certamente il passato va ricordato, fa parte della nostra stessa personalità, ma è anche importante soprattutto vivere nel presente, molte filosofie buddiste fanno leva proprio su questo, del vivere nel presente, attimo per attimo. Il buddismo dice che noi siamo dentro un fiume, questo fiume ci scorre incontro, che è il tempo, sono gli eventi, e noi non possiamo fare nulla, perché il fiume ci viene incontro, ed è sempre acqua nuova, sono sempre cose nuove, noi possiamo solo affrontare quello che ci arriva, quindi è il presente. Ovviamente bisogna anche progettare il futuro. Solo l'uomo è in grado di progettare un'azione futura. Gli animali vanno a istinto, possono anche ricordare determinati comportamenti di memoria, quindi tendono a ripeterli, oppure istintivamente fanno certi comportamenti, ma non ragionano mai su un'azione che può fare questo, e quindi progettare il futuro fa parte della coscienza umana, è questo che ci rende unici in questo momento, e potremmo anche cambiare il nostro futuro. Allora io vi dico, così, pensando un po' sul lungo termine, facendo un esercizio così mentale, quando sarà il vostro ultimo allenamento? Intendo proprio ultimo, che non vi allenerete mai più. Certo, ci possono essere varie circostanze che questo possa avvenire, circostanze magari volute da voi, come capita nella stragrande maggioranza dei casi di quelli che non raggiungono mai un certo grado di sviluppo fisico, perché semplicemente a un certo punto nella loro vita smettono di allenarsi. Per scelta, attenzione, per scelta, perché? O perché si sono stufati, o perché hanno visto che i progressi non ci sono, non hanno più motivazione, forse hanno anche altri interessi più forti. Io ho visto persone che, per fare un esempio, ma può capitare di tutto, ho visto persone che hanno smesso di allenarsi, perché hanno perso la testa per una tippa, per una donna, e quindi si sono infilati in questa storia con tutte le conseguenze annesse e connesse e la palestra è diventata di secondo piano. Oppure ho visto persone che hanno iniziato percorsi lavorativi talmente impegnativi che la palestra non l'hanno più fatto, ho visto persone che mi hanno avuto altri interessi e quindi la palestra non gli è più interessata, quindi può capitare anche che uno non si allena più semplicemente perché ha deciso di farlo. Benissimo. E fino a qui ci può stare, perché se uno è in grado di deciderlo, l'ha voluto lui, non sento lui, non senti tutti, no? Il problema nasce quando l'ultimo allenamento non dipenderà da voi. Questo è il vero problema. Cosa vuol dire? Se non dipende da voi, ma non potrete più allenarvi, di sicuro è successo qualcosa che può essere da serio, da grave o comunque preoccupante. Uno dei motivi principali sono motivi di salute. Se uno ha delle condizioni di salute tali che non è più in grado di allenarsi, purtroppo questo è. E' chiaro che devono essere condizioni abbastanza serie, perché generalmente ci si può allenare con vari problemi, patologie, se non sono molto gravi ci si può comunque allenare. Però a volte sono così serie che non ci si può più allenare. Ecco, questa cosa è veramente triste, veramente grave. Ovviamente lì la priorità sarà quella di cercare di rimettersi in salute e di vivere. Quindi anche la palestra passa in secondo piano. Però questo per esempio è un motivo per cui uno non potrebbe più allenarsi. Uno potrebbe anche non più allenarsi semplicemente perché è talmente avanti con gli anni che non ha più la forza di allenarsi o non ha più la volontà. Anche se qui devo dire che dipende molto dal soggetto. Allora, io ho conosciuto persone che a un certo punto in palestra non sono più andate perché hanno detto no, vabbè, ma ormai a questa età la palestra non vado perché è troppo impegnativa, poi non so, rischio di farmi male. Ecco, ma persone che vi dico erano anzianissime. Posso parlare di un bianco di un punto ai cinquantenni o ho visto anche qualche settantenne che ha smesso di allenarsi perché ho detto no, basta a questo punto. Ecco, qui secondo me non ci sono dei reali motivi per cui uno debba veramente fare l'ultimo allenamento della sua vita e poi smettere. Non ci sono perché semplicemente uno può allenarsi comunque, anche andando avanti con gli anni, adattando magari l'allenamento. È chiaro che non potrà fare le cose che faceva a vent'anni, faccio da dire, ma ci si può comunque allenare. Anzi, io dico, bisognerebbe continuare a allenarsi. Sarebbe un grave errore pensare di avere una certità e non allenarsi più, ripeto, se non ci sono gravi patologie. Perché bisognerebbe fare esattamente il contrario. E quindi io mi ricordo un signore che aveva 83 anni mi sembra, era un signore di un manager, un ex manager, un agiato, in condizioni economiche, molto in pensione da tempo. E avendo nella vita un po' provato un po' tutto, diciamo, avendo avuto tutto, lui comunque adesso nella palestra si è sempre un po' allenato. Però da quando, diciamo, non lavorava più, perché lui può lavorare fino a tardi, sapete che i manager non hanno la pensione come l'operaio normale, che no, i 41 più, più quello, più quello. Il manager può lavorare anche a oltranza. Lui aveva smesso ben oltre i 75 anni, insomma, era andato avanti molto. E comunque si allenava. E si allenava anche con grande impegno. Si allenava anche con grande impegno, ma veramente proprio era motivato. Ovviamente non sapeva allenarsi nel modo più assoluto, cioè sbagliava tutto, ma veramente tutto, come concezione di allenamento, come esercizi, proprio esecuzione. Non ce n'era, però aveva una grandissima volontà. Mi ricordo, per esempio, che pensate cosa faceva? Faceva i crunch per l'addome a terra, no? Si metteva delle piastre da 20 kg, a volte anche due piastre da 20 kg sul torace e faceva i crunch, che è una cosa che già, vuol dire, è inutile fare questa cosa qui, non è che dovete fare i crunch con il peso. Lui ci metteva questi 40 kg e faceva su e giù, a parte faceva più di collo che non di addome. Però aveva questa, per dirgli, la volontà che aveva di allenarsi. E poi correva anche molto, faceva molto tapirulano. Quando non si allenava mi diceva che andava a correre. Insomma, chiaramente non stava facendo le cose al meglio, si allenava troppo e male. Ho provato varie volte così da gli consigli a correggerlo, ma, sapete, quando non c'è ricezione delle cose, uno va avanti di dritto, oltre anza, quindi a un certo punto bisogna lasciar pedere. Però, questo per dirvi la volontà che aveva. Allora io dico che smettere le nasi perché si ha una certe età, secondo me, è assurdo. Semplicemente, anzi, bisognerebbe continuare perché è l'unico modo per veramente tenere il fisico a posto, stimolare le reazioni del fisico a livello proprio cellulare. Vedete, una cosa che molti non sanno, ve la voglio dire, è questa. Si parla sempre dei benefici dell'attività fisica, ok? Ed è giusto. Perché? Perché attività fisica stimola i muscoli, l'assicolazione, le ossa, il metabolismo. Fa bene per tutte queste cose qua, no? Viste in un modo sistemico. Ma forse pochi sanno che i veri benefici dell'attività fisica sono molto più profondi. sono a livello cellulari, è lì che l'attività fisica veramente fa i maggiori benefici. Perché? Perché essendo una forma di stress abbastanza potente, non grave da causare danni, però molto potente, è l'attività fisica che stressa il sistema e le cellule reagiscono, il sistema reagisce, producendo sostanze che riparano, migliorano, rinnovano praticamente il DNA. Adesso non sto ad entrare nel merito su questi temi qua. Comunque poi dopo qui si parla di sirtuine, si parla di NAD, insomma sono cose un po' profonde. Però voglio dire che i veri benefici dell'attività fisica si verificano nel profondo delle cellule ed è questo che è importante. Comunque questa era una cosa extra che vi voglio dire. Quello che è certo è che quando avverrà il vostro ultimo allenamento, credo che la vostra vita avrà veramente un cambiamento perché non sarà più come prima, nulla sarà più come prima, quando non potrete più allenarvi o non volete più allenarvi, nulla sarà come prima. Ma perché? Innanzitutto a livello fisico, perché il fisico inizia una regressione, ahimè che è anche proporzionata all'età, ma il fisico inizia a regredire in maniera veramente potente, ci sono tanti effetti che avvengono e tutti negativi, ma poi io penso che anche a livello mentale il fatto di non allenarsi più, allora se uno non gliene fregava molto non cambia molto, ma se uno ci teneva davvero, è un suo stile di vita e non potrà più allenarsi, questo è un grosso impatto, un grosso impatto anche a livello proprio psicologico e ovviamente si supererà, non è che adesso allenarsi sia per forza obbligatorio allenarsi, nella vita ci sono tante cose, si va avanti, però sicuramente verrà a mancare quel qualcosa, quel qualcosa che vi ha sempre sostenuto, che vi ha sempre dato anche gioia, se vogliamo, vi ha dato uno scopo, una gratificazione, questa cosa verrà a mancare, davvero non è non è bello questa cosa, assolutamente, per questo io vi dico, alla fine di tutto questo discorso, che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che se voi adesso in questo momento vivendo nel presente, voi potete allenarvi, siete lì in palestra, magari non so, non siete al meglio della forma, avete qualche dolorino, però siete in palestra, ragazzi dovete apprezzare questa cosa e ringraziare il nostro signore, ringraziate chi volete, il destino, che voi siete ancora lì in palestra, perché è una grande fortuna essere lì in palestra, è una grande fortuna, le persone che, io l'ho detto altre volte, quando sono lì magari sono un po' demotivato, perché anche ma sta qualche momento di demotivazione, non è che c'è, ovviamente se sono ancora qui, che mi alleno, sono sempre stati superati, se no non sarei qua, non sarei neanche qui a parlarvi, ma ecco in quei momenti lì, lo voglio dire, io penso, penso le persone sfortunate, o che sono in un letto d'ospedale, o che sono malate, o che sono su una sede di rotelle, o che, oppure quando vedo questi anziani curvi che camminano con fatica, io dico, ma santa miseria, io sono qui in palestra, spingo, pompo, sono vitale, ma che cosa voglio di più, cosa voglio di più, devo essere felice, e quindi mi devo allenare con grande passione, perché ho una fortuna di farlo, o quantomeno ce l'ho ancora, questo è anche un discorso proprio di apprezzare il presente, è questo sostanzialmente, apprezzare il presente, quindi ecco, vi ho fatto tutto questo discorso filosofico, motivazionale, perché penso che possa aiutarvi, chiudo con una cosa finale, che questo potrebbe essere l'argomento di un altro video, ovviamente questo è un argomento extra, bodybuilding, extra, vi ho detto all'inizio che noi tendiamo a ricordare il passato, perché questo ci dà un senso, cioè la nostra personalità è fatta dalla nostra memoria, io sono io, tu sei tu, loro sono loro, perché sono altri, perché hanno una loro memoria, hanno una loro, è questo che ci fa differenza, se voi pensate un attimo, è questo che ci rende unici, attenzione, vi faccio un prologo, ma questo poi richiederebbe un video molto profondo, tutte le forme di coscienza che esistono nell'universo, da adesso fino, dal Big Bang fino adesso, partendo anche dai batteri dei protozoi, o dai piccoli forme di vita, fino ai mammifili, fino ai esseri umani, sono tutte forme di coscienza, la nostra è certamente la più evoluta, ma tutte queste forme di coscienza, sapete perché sono, cioè, se dalla materia nasce la coscienza, uno dice è una, no, sono infinite, e perché? Perché ognuna è unica per se stessa, non ci sono mai due coscienze uguali, è questo che differenzia le cose, se non fossimo differenti non potrebbero esserci tante vite, cioè non c'è una coscienza, non ti dico c'è una coscienza unica, non c'è, il substrato è qualcosa di unico, la materia è l'energia, è il tempo, ma ogni coscienza che c'è è unica perché ha la sua storia, va bene? Questo rende, a mio avviso, impossibile, proprio anche a livello logico, pensare che ci siano delle forme di reincarnazione di noi stessi, uno dice, tu quando risorgi potresti essere, non so, un'altra persona, avrai un'altra vita, forse puoi risolgere come un animale, ma questo è un discorso che è senza senso, cioè, se un animale quando nasce o un'altra persona è quella, non c'è nessun altro in lui che viene da prima, è una cosa nuova a sé stante e sarà unica per sempre, quindi non può esistere che una mente memoria storica come la mia possa un domani risorgere in un'altra cosa che non è la mia, semplicemente non lo è, questa cosa è senza senso, ma da qui viene anche un'altra conseguenza molto importante, che il discorso della risoluzione finale potrà avere un senso solo se, l'ho detto varie volte, ci sarà questa memoria storica dell'individuo, della personalità, perché altrimenti non avrebbe alcun senso, se voi foste, uno dice io posso risolgere mille volte, ma con vite diverse, questa cosa è senza senso, non c'è una vita diversa, voi siete voi e siete unici, l'unico modo per avere una risurrezione è ritornare in voi nella vostra memoria storica, se no è finita, sarebbe come se voi siete, vi addormentate in un sonno eterno e poi vi svegliate senza più memoria di quello che eravate prima, siete una tabula rase, ricominciate da capo, voi pensate che sarete veramente risorti? No, sarebbe risorto forse un corpo, ma non voi, perché senza la vostra identità storica non sareste più voi, questo discorso la dice lunga su quello che dovrebbe succedere e sul discorso che la conservazione delle informazioni in universo, che questa c'è per sempre, è solo questione o di recuperarla o di rifarla per simulazione, perché se è computabile si può rifare, però vedete come i discorsi vanno verso temi forse un po' troppo ampi, magari qui c'è qualcuno che fa le live e parlano di sciocchezze, parlando del nulla, sì perché tu, perché quello, perché quello, maestro ogni tanto a pensieri un pochino più profondi di queste sottigliesse, di queste sciocchezze, ok? Grazie a tutti, al top! Grazie a tutti! Grazie a tutti!